Perplessa l'università, perplesso l'ordine dei medici sulle delibere della regione Veneto che danno il via libera all'assunzione con contratti autonomi di 500 medici laureati e abilitati ma non ancora in possesso della specializzazione. Se questa manovra dovesse essere messa a regime, spiega il presidente dell'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Verona, Carlo Rugiu, si rischia di svuotare ulteriormente gli ospedali pubblici veneti e veronesi già strozzati dalla carenza di camici bianchi. Il risultato che temiamo, prosegue Rugiu, è l'abbassamento del livello di assistenza. Prima di parlare dell'assunzione di questi nuovi medici vorremmo capire come intendono specializzarli perché in Italia la specializzazione di un medico prevede l'ingresso in una scuola di specialità con un concorso numero chiuso, l'assegnazione di una borsa di studio per 4-5 anni nel corso dei quali il giovane medico fa solo quella professione, cioè si prepara a entrare nel mondo del lavoro come specialista. Preparare, e non sappiamo ad opera di chi, presso una struttura convenzionata con la Regione Veneto, ma con un corso che duri 92 ore, pare, un corso teorico pratico, e significa avere un gap tra gli specialisti veri e propri ortodossi e questi giovani medici che verrebbero mandati diciamo allo sbaraglio con un contratto precario. Allora cosa facciamo? Aumentiamo il precariato? Se poi questi volessero specializzarsi, hanno un canale preferenziale? Non ci pare sia un percorso lineare. Allora cosa facciamo?